Ciao a tutti, vicini e lontani, vicini e lontani e vicini. Che palle! C'era un mio amico Dario che ha la voce sopranile, lì fa gli acuti, meno male che di opera, di lirica, non mi intendo ma qualcosa, anche se ero confidenzato con la maestra Luzi Bottron, quel poco che ho imparato. Scusami che ho chiuso la diretta di fretta, mi hanno Samuele, ma ho dovuto dare una telefonata importante dal mio fratello. Stai bene, spero. Io sto qui fuori di casa, chiuso, meno male chiuso no, perché sennò veramente da ridere. Arriva l'amico Marco Trevislan della Nier di Fricone, mi porto la spesa, tutto contento, guardo il telefono videochiamato con una bella ragazza brasiliana. Dopo viene fuori, mi dimentico le chiavi di garage, ho fatto un po' meno male. Ho fatto le chiavi, le ho trovate. Dopo dico, vado a casa, cosa faccio? Le chiami in garage, ho chiuso il lucchetto, vado da una persona che ha le chiavi del mio garage, perché in casa di emergenza ce l'ha. Manca un po' quel sole che ho vissuto dentro, era da ridere, proprio dovevo farmi benedire, devo andermi a far benedire la brasiliana quanto prima. Boh, amici miei, ho fatto tutto, combinato, adesso ero alla Coop, ho fatto una piccola sfuscia, ma tre robe, otto euro, va bene. Eh vabbè dai, forza e coraggio, andiamo avanti. Ora parliamo della cena, auguro buona cena. Ciao Samuele, buona cena anche a te, spero che stai, salute Michele. Adesso che è in linea gialla, in linea bianca puoi venire. Boh, mi raccomando, 10-20 giorno, uno dice, voi non so se siete parasattali, avete delle 8 alle 3, avete un altro orario di noi, le malattie, stai attento, mi raccomando, perché adesso non vogliono pizzicare più facile i governatori e anche le ditte. Boh, amici miei, vi auguro una buona serata, buona cena, fate i bravi, che è cenato di buono? Cos'è Samuele cosa fai di buono? Io mi sono comprato, penso vedrai, fra poco, un po' pubblico. Boh, amici miei, un bacio, saluto l'amico Klaus, il trentesimo iscritto nel mio canale YouTube, ecco, giusto bene, iscrivetevi a Franco Tonga su YouTube, chiedo scusa, ci vedete che non si può commentare per il fatto che... ok, ci può fare, anche con Michele e con quella sua fidanzata, solo noi tre, se vuoi, vedi tu. Andiamo, mi vieni a prendere, andiamo alla catapecchia, se vuoi, così più... mi scelgo andare a fare i fatti tuoi giudici, vediamo dai, o andiamo a Fogliano, o vediamo dove andare. Boh, amici miei, sono un po' spensieroso... così, ti chiedo una cosa Samuele, il giorno 17 che è un sabato, se possibile, lì a Milano dove sei tu, metti la cantera per mio padre, per favore, il giorno 17 luglio, che sai che è morto mio padre. Ti ringrazio, carissimo. Mi metti una cantera, per favore, per conto mio padre, per favore, anche se... era un mangia preti, ma lo stesso... io sono mangia... mangia... mangia, mangia, io sono... Boh, vi auguro buona serata, un bacione, ciao Samuele, mi raccomando, pronta guarigione, salutami Michele, salutami tua... ecco, vieni giù con la tua fidanzata, io farò la candela con voi quattro, dai, e mi raccomando, Samuele, guarda che vengo in tiro questa volta, vesto elegante. Vi voglio bene, grazie ancora chi mi guarda, chi non mi guarda, un bacio, saluto tutti i miei amici e amiche sparsi per il mondo, iscrivetevi al canale YouTube, Franco Tonser, e fate conoscere questo diario, questo gruppo, questa pagina YouTube, per favore, fatemi conoscere, dai, per favore, fate conoscere, vi voglio arrivare al minimo 50 persone, non pretendo grandi youtuber come Iachidali o Andrea Galeazzi, eccetera, eccetera. Boh, un bacione, ti auguro buona serata, buona cena, e Samuele, e a presto. Ciao a tutti, vi voglio bene, saluto a tutti e anche Sant'Antonio e Nardini, ciao. Ciao.